E ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Oggi siamo in una nuova puntata di periferiche Per il gaming, oggi Nuovo unboxing, raga Praticamente, cosa è successo? Finalmente, sono riuscito a orinarmi un oggetto Che desideravo da tantissimo tempo E una leva per lo stick Che era una vita che dicevo che volevo prenderla Era una vita E con l'occasione anche dell'ultimo torneo a Bari Ho avuto modo di metterci le mani sopra E finalmente mi sono deciso a comprarne una anch'io Raga, vi giuro, mi sembra incredibile L'ho ordinata, come sempre, su smallcab.net Forse uno dei migliori siti in tutta Europa Per quanto riguarda queste cose Cioè, tra l'altro sono anche veloci E... Sono anche abbastanza veloci Cioè a dire, costa La roba costa su quel sito Intendiamoci, la roba costa Però, effettivamente, raga Hanno la caratteristica che Sono veloci a livello di spedizione Cioè, nonostante tutto il sito La sede si trova in Francia 3-4 giorni e la roba normalmente ti arriva a casa Male che vada una settimana proprio Infatti questa, stranamente, ci ha messo più del normale Cioè, ci ha voluto almeno una settimana prima che arrivasse Anche se con tutti i casini Rallentamenti di coda che Macelli stanno succedendo in questo periodo in Francia Per via del lavoro Delle informe sul lavoro Delle pensioni, chiaramente È normale tutto Io comunque, raga, francamente Non dico che ci stavo perdendo la speranza Ma quasi Senza contare, raga, che Effettivamente Mo c'è da dire una cosa Non niente sarà mai come quando ho feci il mio primissimo ordine dal loro sito Che ho preso una bathtub gialla Presi la bathtub gialla che c'è qui sul mio T2 Plus E ho preso dei tasti gialli e rossi Presi E... Praticamente ci vollero almeno due settimane Prima che mi arrivo la roba E vi dico Si, ripeto Si pagano tanto anche a livello di spedizione Perché Parliamo che a livello di spedizione sono 15 euro Sono Però, ripeto Sono velocissimi Sono davvero velocissimi Sono Purtroppo questo è stato, diciamo, uno dei tanti Casi isolati Il fatto che Ci abbia messo più del normale Ora, fatemi spaccare qua tutto Mi è arrivata giusto una Quanto? Neanche Una mezz'oretta fa Intorno alle tre mi è arrivata Ho sentito il corriere subito Sono Mi sono precipitato Fuori casa A ritirare il pacco Mamma mia Non ci sto credendo davvero Non ci sto credendo Tra l'altro ovviamente la consegna Come sempre è avvenuta con Bartolini È avvenuta E vi dico Il sito è un sito E spedisce a livello internazionale Quindi anche fuori dall'Europa Ovviamente in base a dove Da dove Diciamo Ordinate E Più tempo ci mette Da arrivare Più tempo Però C'è da dire A mio modo di vedere È il miglior sito in tutta Europa Sono ben forniti E hanno un sacco di roba In alternativa ragazzi Se vi dovessi consigliare Un sito alternativo A small cab C'è Arcade Express Che è un sito spagnolo Sito con sede in Francia O se no ragazzi C'è anche un sito qui da noi In Italia Chiamato SaveYourGames.it L'unico problema Di Save Your Games Sapete qual è Sì la roba c'è Però non è tutto Nel catalogo Non è Non è Non è Non tutta la roba È presente nel catalogo Del coso Non tutta la roba È presente nel catalogo Diciamo del sito Roba che Se vi interessa qualcosa Di specifico Dovete contattare Via e-mail Il 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 produttore Ok Qui abbiamo Vabbè Qui abbiamo la leva Ed ecco cosa abbiamo qui Ed ecco qui la roba raga Cosa abbiamo Due buttop abbiamo Per la leva coreana Una blu Che è quella Standard messa di default Una gialla Che è quella Invece che ho ordinato io Questo perché Che quando ordinate la leva Raga E qui diciamo Un po' sbagliato io Ve la farà Selezionare E ovviamente Raga ho preso questo Voi direte cos'è È un adattatore Praticamente Questo adattatore Ci permetterà di collegare La leva La leva allo stick In questione Dato che le leve coreane Sono leve Multi pin Sono Non sono leve Esiste una particolare PCB Chiamata Shuriken Esiste la Shuriken PCB Comunque Che è Praticamente Una PCB Che permette Sapete cosa È bello È bello Il portagavi Diciamo Esiste una Una PCB Particolare Chiamata Shuriken Che si mette Al posto Del classico Microswitch E Si mette Si mette Al posto Del classico Microswitch Sanwo Seimitsu Cioè in base Alla leva Che andate a utilizzare E permette Il collegamento 5 pin Infatti è molto comoda Per le leve coreane Come di consueto Raga L'ennesimo Portagiavi No la cosa Bella del sito Raga Che ogni volta Che fate un ordine Vi mettono sempre Un piccolo gadget In omaggio Per aver ordinato Da loro E ogni volta C'è E vuol dire Il portagiavi È carino Tra l'altro C'è anche Un loro Biglietto Da visita Come al solito Per questioni Di domande O se Ci sono problemi Di qualunque tipo E questa è buona Ragazzi Se prendo Un'altra leva Almeno Non ho bisogno Di ordinare Quella esterna Non ho bisogno O se voglio Semplicemente Cambiare Qui abbiamo Ragazzi La shaft cover Con i gommini E tutto Il necessario E signori Ecco la leva Il modello In questione È la 309 MJ Benidis ST35 Praticamente Questa versione Della leva È l'ultimo Modello Effettivamente Uscito Sul mercato È l'ultimo Modello Uscito Ed è stato Realizzato In collaborazione Con Il modder Coretano Appunto Benidis È stato Realizzato Ok Uno potrebbe Dirmi Vabbè Ma come faccio A montarla Tranquilli Vi faccio Immediatamente Vedere O almeno Spettate che Sposto Un po' Di roba Allora Andiamo A Andiamo Ad aprire La leva Andiamo Ad aprire Lo stick Ok Quindi La prima cosa Da fare Ovviamente È Scollegare Il connettore A 5 pin Un gioco Da ragazzi Raga Quindi Nulla di Troppo semplice Poi Nulla di Troppo Difficile Poi Seconda cosa Da fare Andiamo A Prima di Prima di Rimuovere Le viti Dalla Leva Conviene Levare La Buttop Altrimenti Raga Sarà Poi Un Macello Aspettiamo Un attimo Ecco Qui Adesso Possiamo Prendere Il cacciavite A punta Eccolo Qui E Andiamo A Smontare Le viti Letteralmente Ovviamente Raga Poi faremo Una prova Pratica In game Faremo Non mi Sembra Raga Vi giuro Non mi Sembra Vero Che sono Riuscito Finalmente Ordinarne Una Mi Sembra Quasi Incredibile L'esserci Riuscito Davvero Vi dirò Raga Se non vi Piace Il classico Non vi Piace Allora vi Dico Per quanto Riguarda Questo Tipo di Leve Se non vi Piace C'è il classico Shaft cover Così Nera Esistono anche Delle apposite Shaft in gomma Cioè Delle apposite cover In gomma Ma Vi dico Sono abbastanza Inutili Non servono Quasi a nulla E tra l'altro Vi dirò Se vi interessa Prendervi L'adattatore Smallcab L'adattatore A 5 pin Smallcab È l'unico sito In tutta Europa Che li ordina E che Ce li ha Ok Questa è la Classica Leva Sound Che noi Tutti Conosciamo E vabbè Questa La mettiamo Da parte Che poi La richutilizzerò In un altro In un altro Progetto Ora Andiamo a prendere La leva Coreana Andiamo a A prendere Ora Eh Mannaggia Ma è un macello Ragazzi Riuscire a collegarla Questa O almeno Più che altro Più che riuscire a collegarla Il vero problema Sapete qual è È il fatto Del Come posso dire Il vero cazzo È un altro È il mettere Sti cazzo De 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 cacciaviti Sti cazzo Dei viti Perché Avessi uno stick Con Con la punta magnetica Il problema Il problema Non si pone Con questo Devo fare Parecchia Attenzione Ok No 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 Sono riuscito A beccare Il buco Sono riuscito A centrare Il buco Attenzione Non pensate male Regà Occhio Ma alla fine Regà Vi dico Più che altro Basta che riuscite A schiaffare Il primo Quando mettete Il primo Gli altri Lì Mettete come se Se niente fosse Tutto sommato Basta solo Centrare Il buco giusto Tra l'altro Ragà Voglio Già che ci siamo Che ne stiamo parlando Voglio sfatare Un piccolo mito Su questo tipo di leve Allora Questi tipi di leve Vengono utilizzate Dai coreani E molti sostengono E c'è chi sostiene Questo tipo di leve Possono essere utilizzate Solo su Tekken Allora ragà No Non è vero E' una minchiata Colossale E' una minchiata Ma di quelle colossali Che non so Chi cazzo Abbiamo messo in giro Questo tipo di leve Sono pensate Un po' per tutti i generi Di gioco Sono pensati Che siano Almeno per tutti i generi Per tutti i picchiaduro Che sia Tekken Che sia Street Fighter Che sia Mortal Kombat Anzi In quei giochi Che effettivamente Richiedono input Ostici Tipo ad esempio King of Fighters Che richiede input Trambi Tipo Tipo la Pretzel Motion Di Giz Howard Per fare un esempio E' quanto mai Perfetta Secondo me Secondo me E' quanto mai Perfetta Un secondo Soltanto Regà Che Alleluia E' quanto mai Perfetta Che cazzo Ok Prossimo punto Ragazzi E' mettere La E' andare a mettere La La cazzo De De leva E' mettere La La signora Scusatemi Andare a mettere La signora La signora Bat La Bat Top Ma Attenzione Prima di mettere La Bat Top Dobbiamo Anche procurarci Il Fottutissimo Eccolo qua Così Annaggia Mi dimentico Sempre che L'ho spostata Ok Prossimo punto E' prendere Il gommino In questione Il gommino E Piazzarlo All'interno Della Leva Almeno O forse Al contrario Se al contrario Si O forse Quello Quello Per ultimo Si Mi sa Forse Questo Per ultimo Ho fatto La minchiata Guarda Ora Ora ragazzi Scusatemi ma Devo vedere come Si 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 Monta La leva Perché Sto Facendo Un po' Di Fatica Non sto Scendo a Capire Ok ragazzi Ci siamo L'ho L'ho Fatto Entrare Mannaggia Sua Tra l'altro L'avevo Collegata Male L'avevo Collegata Effettivamente La parte Di gomma L'avevo Collegata Male Poi Meno male Me ne So Accorto Ora Diciamo che Il punto Più Stronzo E' Il piccolo Gancettino Che va Messo Attraverso L'utilizzo Di un apposito Pinze Di pinze Di queste dimensioni Che dovete fare Un po' Di pressione Intanto vi faccio Vedere Ecco qui La leva In ogni caso Io raga Ripeto Quando ordinate La leva Vi viene dato Potete scegliere Tra diverse Colorazioni Io ne ho preso Un'altra Blu Ne ho presa Che era quella Di default Infatti la shaft Cover La bat Top Gialla L'ho presa Nah L'ho presa Di coso L'ho presa Che era di più Ora Andiamo con il Connettore Degli L'initore Multi pin Adattatore Questo adattatore Raga E' lo stesso Che si può Utilizzare Anche per il Collegamento Ai direzionali Dell'hitbox E' lo stesso Identico Uno fa Da direzionale E l'altro E gli altri Fanno Da massa Fanno Ovviamente Raga Qui Si collega Ma ripeto Se siete Più furbi Potete Direttamente Fare E Potete direttamente Collegare Allora Fatemi vedere Un attimino I colori Allora Allora L'arancione E' per il su Quindi L'arancione L'arancione E' per questo Per quello A destra Almeno Ovviamente Diciamo Il colore Il nero Fa Da Da Massa Comune Fa Il nero Fa Da Massa Comune Quindi Il nero Fa Da Massa Comune Allora Invece Allora Su Giallo Su Arancione Scusatemi Pardon Su Arancione Invece Rosso Giù Che E' il connettore In basso Questo Qui E' Ovviamente Raga Ultimo Ma non meno Importante Il verde Che vale Per la Destra Vale Fatemi Ricollegare Un attimo Il connettore Rosso Perché Perché Sennò Raga Qua Va a Finire Che Non Funziona Un Cazzo Sperando Che Non Spezzo Niente Ok Ci siamo Ragazzi Si Si sente Già La Differenza Ora La cosa Più logica Che dobbiamo Andare a Fare E fare Un Testing Game Andare a Fare Ci siamo Sta Registrando Raga Allora Eeeh Aspettate Un minuto Ci siamo Raga Allora Qui c'è Lo stick Che Aspettate Pardon Allora Avviamo Ovviamente Tekken 7 Avviamo Dovrei aver Collegato Tutto Correttamente Raga Non dovrei Aver Fatto Stronzate L'unica Paura Mi è Che Non Possa Non Prendermi Bene L'input Della Sinistra Perché Il connettore Non sono riuscito A collegarlo Nel migliore Dei modi Poi può essere Che alla fine Prende bene Lo stesso Ed è Solo Tanto Una mia Paranoia Cioè Raga Vedete No Ok Ci siamo È il momento Della verità Su Giù Allora Su e giù Funzionano bene Pratica Ok Anche Anche Avanti e Indietro Funzionano bene Un'arena tranquilla Ah L'infinità Si fa Ovviamente Andremo a Andremo a provare Con gli input Standard Quindi Giant Swing E Cazzate varie Giant Swing Vabbè Insomma Proviamo in game Direttamente Poi tra l'altro Voglio fare Una prova Anche con i Mishima Voglio fare Voglio farmi anche Una bella prova Con i Mishima E ancora Non riesco A fare Dai L'input Il Korean Backdash Ora Diciamo Viene meglio Devo abituarmi All'input All'indietro Vai Grande Se con la Sunwatch Era sempre Il rischio De sbagliarsi Grande Che bello Che bello Regà È veramente Un'ottima leva Regà Proviamo con Armor King Invece Proviamo Sessione Semplice Proviamo Armor King Invece Tra l'altro La presa È bella Salda Per chiudere Che bello Ok Ho 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 Pure gli input Pure veramente Pure gli input Più stronzi Adesso riescono perfettamente Ora devo soltanto abituarmi un po' alla leva Devo soltanto abituarmi Quindi per un po' credo che non giocherò online Ah funziona davvero bene Proviamo qualche personaggio un po' più stronzo Proviamo Proviamo ad esempio un Mishima Proviamo Kazuya Vediamo se Magari c'è la possibilità che con questa Qualche electric perfect Mi esca Ma Ah non c'è scritto crown Beh dai Ok Ok WS1 2 Ok WS1 2 Ok WS2 Vabbè Facciamo una prova Proviamo ad esempio Street Fighter Facciamo Street Fighter va Anzi no 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 Ultra Street Fighter 4 Sbagliato Andiamo su Fightcade va Andiamo su Fightcade Tra l'altro le leve coreane sono molto consigliate Per i giocatori di KOF Oltre a quelli di Oltre a quelli di Tekken Anche perchè KOF ha certi di quegli input Ripeto Pensare di eseguirli normalmente Beh che io riesco a eseguire perfettamente Anche con la leva Sangua Però Chiaramente Preparate Strike Now Però Tipo Katge Torment izzare declined Ah Sud Quasi 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 Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie a tutti. Buongiorno. 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 sempre la drogne, ma quello era un electric perfect quello era un electric perfect quello che hai visto prima ma è buonissima ragazzi non è vero Non mi arano, non mi arano. Mamma mia raga No allora E' veramente una cosa assurda E' veramente una cosa assurda sta leva Cioè E' davvero una cosa assurda Niente da dire Insomma raga La La Samdux In poche parole la Samdux 309 Benilis 309 MJ Benilis ST35 E' una leva del quale vale la pena O no Raga assolutamente Sì E l'avete visto da voi L'avete visto Io ci giuro Quando cazzo mai dovevo fare con Ken Per dire per fare ad esempio La input combo super Su Street Fighter 3 O ad esempio Riuscire a eseguire correttamente L'input per la super in King of Fighters Senza Minimamente sbagliare O ancora in Tekken Cioè io non era mai successo Che riuscire ad essere con la Samua Così preciso nei movimenti Certo ancora L'Electric Perfect Non esce Non esce proprio benissimo Però raga Vi posso assicurare Che è una leva Che ne vale la pena Costicchia un po' C'è da dire Parliamo che come Leva costa Che la leva costa intorno alle E Allora Leva in sé costa 30 euro L'adattatore L'adattatore a 5 pin Sono 3 euro E Sono 3 euro Poi Vabbè Io ho fatto la cazzata Di prendere una seconda Buttop Senza comunque Meno di 50 euro Ve ne è uscite Almeno Meno di 50 euro Solo per la leva Ve ne è uscite Tranquilli Poi includendo la spedizione Anzi Una quarantina di euro In tutto Poi inclusa la spedizione Ah Una cinquantina di euro Ve ne è uscite Però raga Vi posso assicurare Che ne vale Assolutamente La pena Ragazzi Porca di quella puttana Ne vale la pena Cioè E' una leva Fantastica Cioè Ti permette Input perfetti Ragazzi Comunque Mi rende molto più preciso Il gioco Rende secondo me In confronto a una classica Sangua Cioè In confronto a una Sangua Cioè si vede proprio Che comunque Eppure Non c'è l'effetto Mollezza In un certo senso Della sangua Comunque Io la classica Sangua originale Ce l'ho qui Infatti Questa ho intenzione Di riutilizzarla In Nel Panthera Evo Che intendo Riparare Intendo Riutilizzarla Va bene ragazzi Allora che dire Se questo piccolo Video vi è piaciuto Questo video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciarmi Un like E un commento Iscrivetevi al canale Commentate Condividete E noi ci vediamo Alla prossima Ovviamente Ragazzi Piccolo particolare Del quale Mi ero dimenticato Di parlare E che se vi interessa Il prodotto Ve lo lascio In descrizione Grazie a tutti